Buongiorno a tutti, sono Lucio De Gagli, di ruino principale dell'orchestra I Soli Stiventi, fondata nel lontano 1959 dal grandissimo e dimenticabile maestro Claudio Cimoni. In questo periodo difficile la musica mi aiuta a restare in casa e spero che possa aiutare anche tutti voi. Ed è per questo che desidero eseguirvi un arrangiamento personale tratto da un celebrimo brano attribuito al chitarista spagnolo Narciso Iepes che scrisse per la corona sonora dell'omonimo film Giochi proibiti. Giochi proibiti. Giochi proibiti. Giochi proibiti. Grazie a tutti. Un caro saluto a tutti voi e arrivederci prestissimo con il Solisti Venti.